sempre più spesso viene impiegata a cuor leggero l'espressione cittadini globali come se essa costituisse l'orizzonte ultimo la prospettiva definitiva a cui rivolgersi per operare nel presente occorre si dice abbandonare la prospettiva della cittadinanza radicata negli stati nazionali come se si trattasse di un ferro vecchio da museo per aprirsi alle sfide della globalizzazione e mirare alla nuova figura al nuovo profilo del cittadino globale occorre io credo soprattutto se sposiamo una ragione critica dialettica non arresa le logiche dogmatiche dell'esistente sfatare il mito del cittadino globale giacché di mito si tratta non può esistere infatti una cittadinanza globale la cittadinanza comunque la si voglia intendere esiste sempre solo nel quadro di unità sociopolitiche circoscritta nello spazio sicché lo stato sovrano nazionale continua a essere dopo tutto il luogo fondamentale della cittadinanza la cittadinanza è stata secondo un'avventura che si è venuta snodando lungo l'asse della modernità lo stato sovrano è stato il luogo privilegiato della cittadinanza e la cittadinanza si è sempre determinata come sintesi di diritti e doveri per il cittadino come membro della famiglia universale dello stato sovrano nazionale la cittadinanza in fondo non è altro che l'appartenenza a una famiglia più grande rispetto a quella naturale che è la famiglia dello stato come famiglia allargata basata non sull'universalismo particolare della famiglia d'origine ma su universalismo reale realmente universale che è quello dello stato mutuo questa distinzione fra famiglia e stato dai lineamenti di filosofia del diritto di hegel hegel chiamava i cittadini dello stato membri della famiglia universale in quanto era convinto che nello stato si recuperasse l'elemento etico comunitario di quella comunità particolare che la famiglia comunità basata sull'immediatezza del sentimento è a sua volta frammentata dal prevalere della logica individualistica propria del mercato sistema dei bisogni ecco di contro al sistema dei bisogni come luogo di un egoismo universale in cui ciascuno vale come atomo concorrenziale contro tutti gli altri la riconquista dell'eticità familiare avviene dice hegel mediante le potenze etiche e segnatamente mediante lo stato come luogo della cittadinanza ove gli individui non valgono più come individui come atomi socialmente insocevoli per usare la formula presa a prestito da candli insocevole socievolezza come luogo del concorrenzialismo competitivo tra atomi che si pensano come ciascuno di essi come un tutto ebbene nello stato gli individui non valgono più come atomi concorrenziali ma come membri di una famiglia universale come membri di una famiglia che non è più quella naturale ma è quella dello stato come luogo della cittadinanza nella quale cittadinanza ogni individuo come membro di una famiglia universale beneficia di diritti che gli spettano quale che sia la sua collocazione sociale nel tessuto comunitario ed è però portatore anche di doveri dai quali non può esimersi e che deve comunque rispettare assolvere sicché la cittadinanza è se vogliamo sintetizzare così il luogo di una famiglia universale interna allo stato sovrano nazionale su queste basi possiamo ragionevolmente sostenere che il miraggio giacché di miraggio si tratta del cittadino globale non è altro in realtà che una evidente neutralizzazione della cittadinanza degli stati sovrani nazionali la logica del sistema dei bisogni vincente ossia del capitalismo globalizzato come trionfo dell'intelletto astratto eghelianamente come trionfo del sistema dei bisogni che neutralizza la comunità familiare come prima cellula comunitaria naturale e la comunità nazionale degli stati come famiglia universale con cittadinanza ebbene lo open space del mercato globale tende a riprodurre l'insocievole socievolezza su scala planetaria un unico mercato concorrenziale dove non deve più esservi la cittadinanza comunitaria degli stati nazionali ma solo il competitivismo globalizzato nel mercato unico ecco perché il mito del cittadino globale in realtà è la distruzione della cittadinanza nazionale sostituita dalla figura del nuovo cittadino globale che in realtà è il migrante colui che non ha più una cittadinanza nazionale e che è perciò stesso costretto all'erranza planetaria e alla mobilità permanente a una condizione diasporica generalizzata che gli impone di non potersi mai radicare dunque essere cittadino da nessuna parte ecco qual è il mito del cittadino globale come neutralizzazione della cittadinanza con annesso scavalcamento dell'impianto degli stati sovrani nazionali come ultimi fortilizi di resistenza al sistema dei bisogni globalizzato che chiamiamo capitalismo